allora rieccoci e qua c'è la guerra oh buono perdo 30 splendore però ok allora qua 25 va 10 altri 3 ah vengono costruiti solo la scusa ma se facessi qua il tutto quanto ho fatto allora 8 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 è un'offerta ecco buono allora a ecco ottimo allora come navi ok ora muro 8 a 70 la nostra regua con lo stato pontificio è finita influenza papale senti io vorrei o questo o o questo forgive usuri oh 66% si è abbassato di colpo per l'esercito scusa la mia flotta dove cavolo è ah ecco non l'ho vista ok ha 10 truppe dannazione ok allora 66% guadagno e si va quindi allora stiamo facendo qua il posto di calè è molto utile sapete molto molto utile ah ecco a voi i francesi scusa muoviti muoviti a dare una mano tu a costo di costruzione dai auto salvataggio dai ok dai 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 eh eh mhm uva scusa eh eh per cento 166 sì, dai e mi ripago l'altro debito allora 182 prestigio e tu vai qua e vieni polverizzato ah che dadi schifosi ok, allora tu vai qua e quindi si muove si muove e ci si muove ok allora non ci importano queste cose inutilissime allora successioni disputata scusa eh sta supportando l'indipendenza di Navarra tra Castiglia e Inghilterra però è ancora bello giovane 67% no rimani qua e saccheggia allora se ben ricordo tra le varie cose c'è c'è umilia che da e show strength scusa ah ecco e guadagno 100 di ogni potere scusa Venezia ha da sola 20.000 io ho 18.000 i cavalieri 5 io i cavalieri ne ho 7 eh forse ecco allora rimani qua a saccheggiare e prendi quanto quanto prendi 99 meno di 1 sapete cosa mi da enormemente fastidio la lentezza degli assedi all'inizio che durante quest'epoca c'erano le armi da fuoco per gli assedi ma non le hanno volute mettere e io non le posso mettere con la mod perché se no tu rimani qua e ti becchi un malus gigante terreno e river crossing e vieni calcio ruotato bene ottimo allora ok allora diminuiamo qua ok allora vediamo un pochino quanto ha ancora 74 perché truppa ecco perché allora se io riuscisco a togliermi avrei almeno un meno 8 dai cadi 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 dai allora io ho finito il manpower ok ah scusa ma visto che la Francia è il mio soggetto non non con controllo il papa no peccato che non c'è sta cosa allora ah buono renable cardinal spread institution allora io sta cosa ah aspetta se hai dei cardinali ne ho uno a Londra e uno a Essex ah si aiutano ok allora allora dai dai cadi 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 no niente intanto qua è quasi drenata totalmente cosa ma le altre navi nemiche dove stanno no allora io ne ho 13 più quelle altre 9 dai dai cadi cadi ora cadi ora cadi ora dai 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 che rottura ah incremento mensile perché ho l'accesso militare oh no non ci credo cioè anche con no ma va a quel paese 20 accetti pace bianca zitta tu shh e smetti di scappare 90% questa guerra non è stata una buona idea ok ok si 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 che poi scusa eh stanno anche in guerra con gli ottomani e io non riesco a ecco a prenderli a calci oh grazie ottomani scusa vai qua perché cavolo ti sei fermato ok allora non mi interessa se chi tizio caio sempronio va lì e rompe perché mo ho meno tre ah perché sto bloccando venezia forse forse sta guerra la vinco pure con l'aiuto degli otto blob e dai questa volta cadi 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 no 49% tutto mondo ok ancora dai 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 oh cioè vorrei poter fare così ma ho troppa paura di perché non ho nemmeno più tanto manpower e dai a volta cadi cadi dai oh finalmente tu vai qua e tu vai qua a occupare tu sei assurdo gioco a me fai stare al 40 rotti un botto di tempo mentre loro al al 14 lo fai cadere ma sei assurdo gioco e e sono quasi 20 minuti no aspetta stai prendendo calci dai francesi cosa Francia mobilita tutti e 27 i tuoi reggimenti e picchia picchia i veneziani la prossima volta no già vedo perché sta ancora oh grazie per i 10 ducati oh perché non ho ben capito perché me l'ha messa così cosa è cancella no niente ma va a quel paese allora oh cavolo li ho visti oh grazie naiv e entusiasma posso ripagarmi un alto debito no 194 34 da Senti Tu se te ne puoi Andare a quel paese Mi dai soldini No Vai a quel paese Bravissimo Perché Venezia Stupida Sta pensando a combattere La Francia Ottomani hanno occupato il fioli Benissimo E Io Saccheggio I frioli Intanto Quanto ha? 9 Saccheggiamo Questi 9 Ducati Quanto stiamo? Ah 23 Ciao